Gentile. Un buongiorno dallo stadio, Artemio Franchi in Siena, pronti per la partita tra il Siena e Juventus. Compagnoni. Buonasera anche da Maurizio e Compagnoni, sono sempre collegato con la diretta, ma sempre su Siena e Juventus. Incredibile, è la partita più attesa dell'anno qua a Siena. C'è questo grandissimo hotel, attenzione che gol! Un gol incredibile! Alessandro Del Piero esplode lo stadio Artemio Franchi in Siena. Piccinini. Incredibile perché ci sono anche io qua dentro, siamo tutti dei mostri ciazionali, ci colleghiamo con Aldo Serena che è qui sotto le mie gambe. Aldo, ci sei? E ci sto cercando di tirarmi su. Una roba di coglioni, stai sotto, Poli Bonnici, regia, tra poco. Non. Adenzione perché c'è la sciabolata per Del Piero, vedete che la parola è lavera, ti sembra che era per dare, vedete che ne è. Vedete che delle volte cambia anche i voci perché mi piace parlare in marocchino, puoi andare all'italiano. E tornare con una sciabolata disperata in aere di rigore perché vedete che la difesa del Juventus ha detto bene. E poi c'è questo pallone buono per la Juventus che va in attacco con Camoranesi. Dentro il pallone per Del Piero. Del Piero vuole un 1-4-1. Del Piero! Del Piero! Mamma mia che tiro! Pazzesco il tiro di Del Piero Beppe! Sicuramente Fabio, guardate come si è coordinato bene, come ha coordinato bene la gamba, l'ha lasciata andare benissimo. E poi qui guardate questo Svizzero del cazzo che non riesce a gestire la strada. E sicuramente è una cosa pazzesca perché non è possibile che nel 2017 ancora non si sappia usare un mezzo chiamato automobile. Spot con Stefano dei Grandi e Sabato Campo, Stefano. Eh sì, sono qua anche io, non ci sto capendo più un cazzo. A te Fabio. Allora direi che Elisabetta Canalis ci ha rotto proprio il cazzo. Allora Elisabetta, eccola qui. Ci saluti le telecamere di Sky? Sì, sono bruttissima. E sempre con noi. Elisabetta Canalis! Popi Bonnici! Ti ha bombato Popi Bonnici? Ti ha bombato o no Popi Bonnici? No, ma non ti ha bombato. E allora andiamo a bombare!